Cosa succede se una gocciolina d'acqua si lascia abbracciare da un caldo raggio di sole? Succede che comincia un bel viaggio, ricco di esperienze e fecondo di vita perché le goccioline d'acqua viaggiano e si trasformano ma non muoiono mai. Le avventure cicliche di una goccia d'acqua è la metafora del ciclo dell'acqua adatto ai bambini ma anche ai più grandi. Buona lettura! Grazie a tutti!